Allora giurati siamo ritornati Asuna hai messo i tuoi voti è tutto pennello quindi giurati riprendete la penna in mano non distraetevi perché ora inizia la seconda marche la seconda marche è quella della sfilata di moda ovvero le nostre miss sfileranno sul palco come delle vere modelle fileranno con gli abiti di Blanc Dunil dei negozi di Jesolo, Caorle e Venezia Blanc Dunil è un universo fatto di abiti bianchi in puro cotone leggeri e freschi ma soprattutto alla moda perfetti per la spiaggia e per il mare in genere un'ampia scelta di collezione per tutte le età ma anche per tutte le taglie e per tutti i gusti sì perché Blanc Dunil immagina vestiti per il comfort di tutti fatti per uomo, donna e bambino successivamente le nostre miss sfileranno nella posa fotografica quindi oltre al portamento anche la posa fotografica per il nostro contest dei fotografi quindi i nostri fotografi qui in fondo e sfileranno con i gioielli di Leonardo Gioielli dal 1989 il punto di riferimento dell'alta gioielleria e orologeria le esperienze e la professionalità sono la loro business card sempre pronti a consigliarvi il gioiello più adatto alle vostre esigenze tra un'incredibile gamma di brand di altissimo livello da Leonardo Gioielli potete trovare i più preziosi, più esclusivi e rinomati e gioielli fatti a mano con la cura del dettaglio e la qualità unica che solo il Made in Italy perché no proprio il Made in Verito sa fare. In abbinata ai gioielli troveremo anche le borse, le borse di un nuovo brand italiano BGHY Venezia, nato a Venezia rappresenta lo stile e la tradizione italiana, sapienti artigiani realizzeranno con cura e cucciano a mano le migliori borse fatte con materiali ricercati, tessuti made in Italy di alta qualità costituiti da fibre naturali o da filati provenienti dal riciclio e dalla rigenerazione di rifiuti e materiali di scarti, quindi per coniugare quello che è lo stile, il fashion alla sostenibilità, dando loro così una nuova vita. Con borse esclusive e uniche BGHY avete il vostro nuovo modo di vivere lo stile, di essere fashion e speciale. Giurati, le nostre mise saranno come delle vere modelle, quindi usciranno una per volta, ovviamente i numeri non ci sono ma voi le riconoscete perché passano dalla 1 alla 13. Io vi lascio con i nostri partner Blanc Dunil, Gioielli Leonardo e BGHY Venezia. Ciao! Grazie a tutti 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 Numero 1 Grazie a tutti Numero 2 Grazie a tutti 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 Numero 10 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti